Buongiorno, oggi è invitato il dottore De Stefano, responsabile della fisiopatologia della riproduzione dell'ospedale Moscati di Avellino, che è la più grande struttura che si occupa di sterilità nella regione Campania, già presidente della società italiana ospedaliere della sterilità, nonché membro di numerose commissioni del Ministero della Salute, dell'Istituto Superiore di Sanità e della regione Campania ovviamente, e poi ci raccontava che ha lavorato anche presso il centro della sterilità dell'ospedale Tenon di Parigi. Dottore, grazie per l'interesse nei confronti di questo convegno. Le volevo fare qualche domanda. Qualche anno fa è stato pubblicato un libro dal titolo The Baby Business. Il sottotitolo le riportava come il denaro, la scienza e la politica dirigono il commercio del concepimento. Le ritiene che anche in Italia la procreazione sia solo un business, dove il discorso capitalistico in senso lacaniano diventa prevalente e sia l'unico motore? Allora, quando rinanzi tutto vi ringrazio tantissimo per l'opportunità di stimolo culturale, di crescita che ho avuto dal contatto con questo convegno e con le tematiche che sono contenute. Trovo anche straordinariamente interessante che in questo momento ci sia un'attenzione sui problemi della riproduzione, della filiazione, della genitorialità a livello internazionale. No, la fecondazione in vitro non è un business, chiameremo così semplicemente tutta quella messa di tecniche, di procedure che si occupano della procreazione assistita. La fecondazione assistita o fecondazione in vitro non è solamente un business, lo dimostra un fatto oggettivo, il conferimento del premio Nobel nel 2010 al padre Bob Edwards, l'autore della prima procedura di fecondazione con successo con la nascita di Louis Brown, la prima tube baby, come fu definita all'epoca. Lo dimostra lo sforzo e la crescita della ricerca, dell'applicazione clinica, dei trattamenti che oggi in Italia ad esempio garantiscono la nascita di circa il 4% di tutti i nati della popolazione italiana, che sono un numero significativo. Certo c'è un aspetto di tipo commerciale, c'è un aspetto di tipo mercantile, se vogliamo usare questo termine, che è molto forte, che è legato ad alcuni dei problemi, dei temi che sono contenuti nel libro citato, ma che sono anche legati al fatto che vi è una domanda di accesso a procedure per risolvere il problema dell'infertilità delle coppie, alla quale corrisponde poi un'offerta in termini commerciali, non sempre e comunque con maggiori difficoltà i sistemi sanitari nazionali, i sistemi assicurativi pubblici riescono a tenere dietro ai costi e alle necessità di questo tipo di tratterologo. È l'esempio più lampante da questo punto di vista, le difficoltà che ci sono a seconda delle normative dei diversi paesi ad ottenere donazioni di gametti, soprattutto di ovociti femminili per le complessità delle procedure, per i costi dei farmaci, per la disponibilità delle persone, ovviamente crea dei bacini nei quali è possibile raccogliere gli ovociti gametti e dei bacini nei quali invece è possibile utilizzare questi ovociti e questi gametti e questo in Europa ha avuto una diversificazione molto forte, ci sono paesi come la Spagna dove la normativa consente con una certa facilità di raccogliere degli ovociti, altri che sono dei paesi che dipendono dalla Spagna, l'Italia è uno di questi ma non è l'unico per l'approvvigionamento dei gametti. Sono poi, come dire, sempre in termini commerciali i mercati emergenti, l'est europeo, la Grecia, la Turchia che offrono questo tipo di prestazioni. La migrazione sanitaria è molto forte, internazionale per la fecondazione eterologa e per questo, a parte che da anni, viva Dio, in Italia non è più proibita, ci sono strutture come la nostra che lo fanno nell'ambito del sistema sanitario nazionale, ma a causa della migrazione sanitaria noi abbiamo avuto un fenomeno paradossale che quando in Italia era proibito dalla legge fare trattamenti di fecondazione eterologa, nascevano in Italia un terzo dei nati da donne ultracinquantenni di tutta l'Europa che erano al 99,99% nati da procedure di donazione di gametti. Quindi le donne ultracinquantenni italiane andavano all'estero, i paesi dove queste donne facevano trattamenti non offrivano alle proprie connazionali ultracinquantenni questo tipo di terapia. Come dire, la legge non ferma questi movimenti impetuosi che vanno incontro alle necessità delle persone. Chiaro, interessante perché soprattutto dal punto di vista di normativa mi pare che esistono dei limiti temporali invece in Italia per la fecondazione eterologa che di certo non sono quelle dei cinquantenni. Allora, in realtà esistono i limiti normativi per l'accesso alle procedure col sistema sanitario nazionale, indicati in una serie di atti legislativi dal ministro Lorenzin, poi in via di perfezionamento a livello regionale che differenziano tra i 46 anni della Campania e i 43 anni delle altre regioni, senza limite come accade nella regione Veneto, insomma però poi ci sono dei limiti sanitari, cioè ci sono delle necessità mediche di non far fare figli a donne di età eccessivamente avanzata per la sicurezza delle donne. Un'altra questione, l'APM ha reso evidente che esiste una disgiunzione netta tra sessualità e percreazione, avrendo quindi una faglia tra desiderio di un bambino e un vero e proprio diritto alla filiazione, affidato invece alla scienza medica. Il figlio come un vero e proprio diritto ha scapito di ciò che la natura non concede. Anche perché la famiglia si struttura un po' più attorno al figlio piuttosto che al rapporto tra i conigi, i figli restano, i conigi si separano. Allora questo è un grande tema che comincia un po' prima della fecondazione assistita, in realtà comincia con la diffusione dei contraccettivi ormonali, la pillola anticoncezionale in cui le donne sostanzialmente si liberavano dalla schiavitù che era legata al rischio di concepimenti indesiderati e quindi hanno potuto separare l'attività sessuale, quindi un aspetto ricreativo, quello riproduttivo e poi ancora con l'avvento della fecondazione assistita c'è stata la possibilità di avere una riproduzione separata dall'attività sessuale. È chiaro che sopra tutto questo c'è il desiderio della genitorialità. A volte è rivendicato come diritto, rispetto a questo si è fuoristrada, la medicina e i medici che ne sono, come dire, coloro che la mettono in pratica, hanno il dovere di garantire la libertà di accesso alle possibilità di procreazione. Il benessere riproduttivo, che è quello indicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dalle Nazioni Unite, è la possibilità di esercitare liberamente la propria capacità riproduttiva, con sicurezza per sé e per i nati, nelle forme, nelle modalità e nelle circostanze che ciascuno può identificare come opportune per sé. E qui dentro poi c'è tutto. Ci sta la genitorialità genetica, quella più tradizionale, diciamo così, della riproduzione attraverso i rapporti sessuali, quella delle coppie che fanno trattamenti con i propri gameti, quella biologica, che è quella delle donazioni dei gameti e anche quella semplicemente affettiva, che poi è quella dell'adozione, dell'inserimento nella famiglia di un figlio o comunque, diciamo, quella ricerca di centralità del figlio intorno al quale coagulare la coppia. Tutto sommato, se dovessimo ridurre tutto alla rivendicazione di un diritto, noi faremo una di quelle regressioni in campo antropologico, biologico, che ci riporterebbe alle posizioni rivoluzionari che 35 anni fa e poi ancora più recentemente ribadendo, Dawkins, l'autore del libro Il gene egoista, che è molto noto, che riconduceva all'inarrestabile tentativo dei geni di prevalere l'uno sugli altri, questo dal virus all'organismo più evoluto, disegnando proprio un profilo di biologia dell'egoismo contrapposto a una biologia dell'altruismo, che era quello poi che metteva insieme gli interessi collettivi, gli interessi di tutti, la piccola collettività, la coppia, la più grande collettività, la famiglia, la più grande collettività ancora, la comunità, che può essere locale, nazionale, e infine la comunità planetaria, anche perché si discute tanto di natalità, denatalità, che è un grande tema per paesi come l'Italia, sapete che le conseguenze della denatalità in Italia dal punto di vista economico, pensionistico, sono drammatiche, ebbene Levi Strauss, che è uno dei più grandi antropologi che sono stati nell'umanità, concluse la sua vita affermando poco prima di morire che lui era entrato, si era affacciato nel mondo quando ci abitavano un miliardo e mezzo di persone e usciva dal mondo quando ce ne abitavano 7 miliardi e si chiedeva se questo fosse un bene per il nostro pianeta. Forse non ci entriamo proprio in senso letterale in tanti sul nostro pianeta. Insomma, tutta questa tecnologia è in ogni caso coniugata con il ruolo della medicina e lasciando uno spazio forse anche alla porta che può dare la psicologia. Ma questo certamente, il conflitto, che poi il conflitto non è, la dialettica tra la tecnè, la cura e diciamo l'assistenza alle malattie delle persone, tra questa e quella dell'infertilità, così descritta nei conflitti tra la tecnologia e la medicina tecnologica e la medicina narrativa. Questo sicuramente apre uno scenario fortissimo, anche perché con l'ascolto dei pazienti, con l'utilizzo degli strumenti della medicina narrativa. Noi possiamo effettivamente essere utili nel percorso di cura e anche nell'adozione poi delle più opportune scelte tecniche. Perfetto. Dottor, lo ringrazio per questa intervista molto interessante e ai prossimi appuntamenti. Io ringrazio tutti e spero che queste contaminazioni tra il mondo dei clinici e il mondo della psicanalisi continuino. Per me sono un grande passo avanti. Grazie.